benvenute allora oggi sfogliamo il catalogo di natale del libro che si ebbene sembra che sia presto ma non è mai presto per queste cose fantastiche natalizie vi anticipo subito che il catalogo sarà vido fino al 27 dicembre 2017 ma se volete tutti i prodotti entro natale mi raccomando i primi di dicembre di fare l'ordine anche perché sennò va tutto esaurito come sempre allora dato che il catalogo è sicuramente molto lungo e non voglio fare un video immenso vi mostro le novità perché sapete che ogni anno Yves Rocher sforna due o tre in questo caso due collezioni di profumazione con tutta la linea completa e poi ci sono le solite novità oppure sette in base alle esigenze quindi profumi le creme mani i trucchi quelle sono le solite e le vi lascio sicuramente il link qui sotto per scaricare sul catalogo così lo vedete con calma noi vedremo solamente le novità di quest'anno che sono ad esempio profumazione alle bacche e quello alla vaniglia bianca quindi wow già da quello altra cosa che vedete nel catalogo sono le immagini davvero quest'anno il processo è superata e basta non vi dico nient'altro iniziamo a sfogliare il catalogo allora eccolo la prima cosa che vedo dalla copertina è wow le illustrazioni comunque lo sfogliamo subito eccolo qui guardate che belle le immagini il cervo si avvicina nel bosco e sente profumo fruttato e dolcemente fiorito delle bacche rosse le bacche delle meraviglie la melodia armoniosa da natura selvatica che si risveglia tra le soffici negli rivelando dei segreti ebbene sì la prima profumazione sono le bacche rosse e comprendono come vedete tutta la collezione quindi trattamenti per il viso per il corpo per le mani bassa molabbra il sapone per le mani c'è davvero tutto nei vari formati anche vado veloce se no non lo vedete mai allora il primo set guarda è meraviglioso la casetta in cartone con il latte colpo da 50 il bagno d'occhio da 50 il bassa molabbra e la crema mani c'è anche nell'altra profumazione la vaniglia bianca che ora vi mostro dalle case caldo e avvolgente per vale il profumo della vaniglia bianca che unisce la famiglia in un tenore abbraccio e in fondo il piacere di ritrovarsi in una sensazione di assoluto benessere vaniglia bianca guardate sempre le immagini e illustrazioni cioè davvero fantastiche anche nelle sue confezioni tutta la collezione e iniziamo con i set il primo è più piccolo la 795 e comprende questa piccola scatola con la finestra la crema mani e il sapone per le mani sia nella vaniglia bianca che nelle bacche rosse se no il cestino piccolo che comprende la 1295 il latte corpo da 200 il bagno doccia da 200 la crema mani il bassa molabbra e il cestino di metallo e c'è anche ovviamente nella formazione la vaniglia bianca il cestino medio invece comprende a 1495 il bagno doccia da 200 ml il sapone per le mani la crema mani il bagno doccia da 50 ml il latte corto da 50 la spugna da massaggio e ovviamente il cestino e ovviamente sempre anche nella versione alle bacche rosse cestino grande bello anche questo cestino vaniglia bianca 1995 bagno doccia la 400 ml latte corpo da 200 sapone mani crema mani candela spugna da massaggio e il cestino vaniglia bianca e frutti rossi oppure quello il set in latta ed è anche bella la confezione cofanetto in questo caso bacche delle meraviglie e le toilette da 100 ml latte corpo da 200 il bagno doccia da 400 la candela l'esfoliante corpo spugna da massaggio e il cofanetto ovviamente anche nell'altra versione e possiamo vedere che questo cofanetto c'è anche a sempre profumazioni delle piacere natura quindi tutte quante le profumazioni e trovo che sarebbero un bel regalo andiamo avanti sotto l'albero 9 95 il kit 6 bagno doccia in formato mini carina come idea oppure il kit dei tre saponi eccola qua o il kit delle quattro creme mani davvero delle belle idee e andiamo avanti veloci i trattamenti make up quindi rossetti i gloss uh bella la trousse la palette le varie trousse con le varie colorazioni di gloss i set con gli smalti oppure con gli ombretti solito trattamento occhi bella la palette il solito set manicure la bb cream con la pochette questa invece è solo edizione limitata natalizia il nuovo profumo qui all'amor con il rossetto rouge vertige serigrafato con il nome del profumo bellissimo edizione natalizia è anche bella la confezione tutti i vari cofanetti le profumazioni quindi tutte le profumazioni belle molto belle vado veloce comunque ci sono tutti i profumi tutte le linee del mattino giardin quindi tutte le varie profumazioni vari set i profumi da uomo eccoli trattamenti dopo barba da uomo con la lato trousse i trattamenti per il corpo eccola qui set per capelli e doccia i set per bambini sono fantastici io adoro queste idee portacchiadi col peluche varie linee per la cua del viso con i loro cofanetti e quelle qua sono tutte linee linee per il trattamento anti età serum vegetal con i vari i set grandi con la confezione con i piccoli con solo l'omaggio bello molto bello per qualunque tipo di regalo ecco finisce l'album con il cofanetto della rish creme viso e mani e devo dire che è davvero molto bello quest'anno eccoci qui spero di essere stato abbastanza chiaro e abbastanza veloce che non sia venuto un video lunghissimo allora vi ricordo sempre che per le informazioni e per gli ordini trovate il link nell'info box tranquillamente e io sono sempre a disposizione trovate anche il link per scaricare il catalogo così tranquillamente ve lo guardate ve lo sfogliate ve lo conservate anche perché no e vi ricordo che se volete avere tutti i prodotti ed essere sicuri che arrivi nel Natale è meglio fare l'ordine entro i primi di dicembre e basta e buon Natale mi sembra un po' presto comunque sia buoni acquisti nel termine profumati e natalizi con le Maggi Catture del Mondo di Brochè grazie a tutti Grazie.